Vista la situazione che si è venuta a creare sul fronte degli arretrati per i lavoratori del cotonificio Onegger, cosa chiedete in questo momento? Noi sostanzialmente chiediamo su due fronti il pagamento degli arretrati. La prima condizione che si può dare a soluzione è il pagamento delle quote in conto alla cassa integrazione straordinaria, dove lì speriamo che a breve vengano veramente messe esigibili, per cui i lavoratori che sono in attesa dal 1 settembre 2012 ad oggi non hanno ancora avuto nessun Euro da parte della cassa integrazione. È vero che rispetto ai tempi c'è una gestione dove il Ministero del Lavoro ha dato approvazione al decreto solo nel mese di dicembre. Noi ci aspettiamo però quanto prima, e questo sembra che il direttore dell'Inpsi Bergamo abbia preso l'impegno di rendere veramente esigibili i pagamenti entro la metà del mese di gennaio, e siamo in attesa di questo primo passo che dal nostro punto di vista è molto importante. Secondo argomento invece sono i debiti o comunque quello che i lavoratori devono riscuotere ancora dall'azienda, anche se messi in liquidazione. Qui la cosa è un po' più complicata, perché la sostanza è che l'azienda ha chiesto un preconcordato, in funzione del preconcordato ci sono dei tempi dove l'azienda ha chiesto da due a quattro mesi per presentare tutti i conti, dopodiché c'è comunque la nomina di un commissario giudiziale e poi di un curatore e solo dopo vengono fatti i pagamenti di tutti quelli che possono essere le spettanze ai lavoratori, compreso ad oggi il fermo di tutte le tredicesime e anche di quelli che erano i pagamenti delle liquidazioni della gente che era già messa in mobilità, per cui già non più dipendente dell'Oneger. E lì abbiamo comunque noi la necessità di avere un altro incontro a breve in Confindustria Bergamo, dove qualcuno ci spiegherà le modalità da applicare.